Non è ancora risolta la vertenza assicura Aquila che coinvolge 16 lavoratori della ditta aquilana che si occupa di vigilanza privata, vertenza che riguarda in particolare 16 guardie giurate impiegate nelle varie sedi del Tribunale dell'Aquila. Gli operatori sono rimasti senza stipendio per diversi mesi, costretti a turni pesantissimi che in alcuni casi hanno anche superato le 16 ore di lavoro continuativo, come ha denunciato nei giorni scorsi il sindacato Cisal dell'Aquila. E' la segretaria provinciale della Cisal, Giuliana Vespa, che evidenzia diverse anomalie, pagamenti che arrivano con un ritardo di mesi, la decisione dell'azienda di sospendere le ferie estive per tutti in quanto la carenza di personale non consentirebbe di garantire turni. Dopo la denuncia della Cisal, nei giorni scorsi Sicur Aquila ha pagato gli stipendi di marzo e aprile, ma non quelli di maggio. L'attenzione sulla vertenza dunque resta alta. Finalmente sono state pagate le mensilità di marzo e di aprile. A sabato era scaduta la mensilità di maggio, quindi ci auguriamo che entro domani, perché non abbiamo nessuna intenzione di far iniziare questi lavoratori, a lavorare nell'incertezza di non avere una continuità salariale. Uno perché è un diritto di tutti i lavoratori e due perché loro hanno un lavoro molto particolare, quindi lo stress, l'ansia di non sapere come veramente pagare il mutuo, la bolletta il giorno dopo, ovviamente per il lavoro che fanno è un aggravio ancora più forte. Così come si evince dal verbale della Prefettura, la Procura Generale, proprio sapendo, avendo la consapevolezza che gli importi delle fatture erano destinate al pagamento degli stipendi, hanno pagato con una puntualità rara per un ente pubblico. Quindi noi anzi ringraziamo molto la Procura Generale perché sono stati attenti, rispettosi, proprio nei confronti di questi lavoratori e di questo momento così particolare che stavano vivendo. Quindi attenzione massima per i prossimi giorni? Assolutamente sì, non abbassiamo la guardia, non sono lavoratori che lasceremo soli. Diciamo che abbiamo raggiunto un piccolo traguardo, ecco. Non mi sento ancora di dire che è totalmente risolta questa avvertenza. Intanto per giovedì 20 giugno la Procura, committente per Sicuracuila, ha convocato un nuovo incontro per acquisire altre informazioni sulla avvertenza. Al tavolo siederanno il sindacato e la ditta che nel frattempo si difende. Le difficoltà sono state ampiamente spiegate e chiarite ai dipendenti, spiega il procuratore speciale di Sicuracuila Antonio Palena. Non vi è mai stata e mai vi sarà alcuna plausibile contestazione di inadempimento nei confronti di Sicuracuila da parte dei propri committenti.